L'incontro si risalda in favore di Apolo Pinto. Il campione in carica sta alzando le braccia in segno di vittoria. L'incontro non potrebbe finire qui. Coraggio, coraggio, alzati. Cepè! Cepè! No, no, no! Ormai distrutti dalla fatica non hanno sentito la campagna e vengono riconduti a forza ai uroni. Tutto bene, a fondo? Sì, sto bene. Sto bene. Non vedo niente. Aprimi l'occhio. Apri. Aprimi l'occhio. No, io non me la sento, Rocco. Apri. 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 Ok. Dai, provaci. Provaci. Non ti andiamo. Quello ti sta rovinando. Apolo, io getto la spugna. No, tu non getti nessuna spugna, amico. Non ti azzardare. Sei del gruppo di ammazzo. Va bene. Continua, sapevo. La bella è tua, con me. Sì, vai, Rocco. Che ce la fai? È distrutto. Tieni fino in fondo, fino in fondo. Colpisci qui, qui. Perfetto, hai capito? Tieni fino in fondo. Non ce la fa più. Vai, Rocco. Vai, forza. Comincia il quindicesimo e ultimo round di questo esaltante incontro. Nessuno dei due sembra deciso a mollare. Vieni. Ma Pollo parte con un tremendo 1-2. Ma notiamo che sta chiaramente proteggendo il suo fianco destro. Rocco lo sta studiando. È ancora concentratissimo. Schiva un sinistro e parte con un 1-2 al corpo. A Pollo in difficoltà è ripiegato su se stesso. E continua a perdere molto sangue. Rocco insiste. Colpisce con una serie al corpo. A Pollo in difficoltà. Continua così, Rocco. Non ci sarà per vincere. Chi la vuole? Rocco insiste a registrare quindici round. E come ti sei? Bello, bello. Quando hai messo al tappeto a Pollo la seconda di più. Andiamo! Crediti di aver fatto l'incontro alla seconda di più. Signore e signori, si è condizionato così l'incontro tra il campione mondiale di crisi basse. Rocco! E lo sfidante Rocco. Rocco! Abbiamo assistito ad uno dei più grandi avvenimenti sportivi stasera. Ad uno degli incontri più drammatici nella storia del più girato. Adriana! Signore e signori, ho ricevuto i cartellini dei giudici, vince ai punti, in quindici riprese, l'incontro palido per il campionato del mondo di questi massimi a Pollo 3. Andriana! Non mi frega niente a me nel futuro, vattene via! Andriana! 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 Anriana! Adriana! Adriana! Rocco, ti amo! Ti amo! Ti amo, ti amo, ti amo! Grazie a tutti.